Oggi sono salito sull'autobus, ho timbrato il bigliettino e mi sono seduto, ho guardato fuori dal finestrino la strada che scorreva, poi è salita una signora anziana e io le ho ceduto il posto, con educazione naturalmente, con educazione. A un certo punto quando sono arrivato alla fermata dove dovevo scendere ho suonato il campanello e io sono sceso, sono sceso con grinta, questo sì, anche l'autista, anche l'autista ha pensato sicuramente, ha pensato che, guarda quel mio passeggero che grinta che c'è, scende con grinta, a me piace che i miei passeggeri scendano con grinta dal mio autobus, perché così vuol dire che il mio autobus è un autobus culturale, è un autobus che crea dei nuovi uomini e soprattutto una nuova immagine per il 1992.